Tutti amiamo la pasta, ma i grassi e i carboidrati fanno ingrassare e aumentano la circonferenza in vita. Finalmente puoi mangiare dimagrendo grazie a Veggie Trim Gourmet Veggie System. Il modo nuovo e pratico di preparare sani piatti di pasta partendo dalle verdure come zucca estive, zucchine fresche, croccanti carote e molto altro. Ora mantenere la linea è più facile che mai. Bastano pochi giri di Veggie Trim e puoi creare piatti deliziosi come questi senza le calorie di troppo. Guarda! Questo piatto di normale pasta contiene oltre 800 calorie, mentre questa pasta Veggie Trim con pochi carboidrati meno di 125. Adesso puoi gustare senza rimorsi questa pasta ai frutti di mare o questa irresistibile torta alle carote senza glutine. Con Veggie Trim anche i tuoi bambini mangeranno volentieri le verdure servite come spaghetti al formaggio. Il segreto è nelle affilatissime lamine acciaio inossidabile dei Veggie Trim che affettano le verdure come fosse burro. Il lato per taglio sottili ha 13 lame per tagliare a strisci sottili, mentre con le 9 lame del lato per taglio grosso ottieni strisce più spesse come spaghetti e trasformi tantissima verdura in gustosi piatti di pasta. Basta infilarlo nel Veggie Trim e girare, girare, girare. È facile, veloce, divertente e salutare. Puoi usare Veggie Trim per verdure crudine insalata o cucinate in qualunque modo. Bollite, saltate con olio di oliva o cotte al microonde. Con il taglia verdure sottile affetti carota julienne per una deliziosa insalata o un sauté all'orientale, mentre le lame più spesse trasformano facilmente le zucchine in deliziose fettuccine alla panna o al formaggio. Questa pasta con panna e formaggio ha 1480 calorie e 80 grammi di carboidrati. Le fettuccine a Veggie Trim solo 322 calorie e 10 grammi di carboidrati. Questo sì che è un segreto per dimagrire. Da quando uso Veggie Trim ho perso 50 kg. Faccio tutto quello che prima mi era impossibile. Adoro Veggie Trim, lo consiglio a tutti. Puoi avere tutto. Veggie Trim Gourmet Veggie System, completo di lame a taglio sottile, lame a taglio grosso e salvadita. Otterrai inoltre anche il nostro libro di ricette con dozzine di deliziosi piatti, facile e veloce da realizzare con il tuo Veggie Trim. In più, anche la guida nutrizionale con suggerimenti per una dieta e una vita più sane. Finalmente ti puoi godere un piatto di pasta che non è pesante e non fa ingrassare, ma è delizioso e sano. Un'ottima opportunità per dare slancio alla tua dieta dimagrante. Veggie Trim Gourmet Veggie System Grazie a tutti.